bentornato gutier bentornata dopo aver installato il sistema operativo come sempre è necessario attivarlo quindi andiamo a vedere come verificare l'attivazione di windows 10 ed in caso non fosse attivo come realizzare tale azione cos'è innanzitutto l'attivazione ti permette di verificare l'originalità della tua copia di windows oppure che essa non contrabbegga le condizioni di licenza della microsoft per l'attivazione di windows 10 verrà impiegato il tuo product key che ricordo può essere anche quello di windows 7 o windows 8.1 se sono genuini ed aggiornati tramite la versione di windows 10 denominata 15 11 quella che è stata rilasciata a novembre 2015 o anche quella successiva oltre al prodotti verrà anche impiegato il diritto digitale ossia il nuovo metodo di attivazione in windows 10 che non richiede l'immissione di un codice prodotti a seconda dei casi in pratica in caso di licenza legittima per quello specifico prodotti verrà associata alla configurazione hardware del tuo dispositivo un codice univoco quindi soltanto tuo che ti consentirà di attivare la tua copia del sistema operativo per sempre anche dopo una formattazione e reinstallazione pulita del sistema operativo e tra l'altro senza inserire di nuovo il prodotti che seguendo il percorso delle ultime elezioni si è eseguito questo percorso appunto l'acquisizione del diritto digitale dovrebbe verificarsi senza problemi e sempre che tu parta comunque da un sistema operativo già attivato diamo per scontato quindi che il sistema operativo venga attivato automaticamente appena esso è connesso ad internet con assegnazione del diritto digitale ti rimando comunque ad una pagina del sito della microsoft che evidenzia dettagliatamente come ottenere l'attivazione in base al tipo di installazione eseguita link che pubblicherò nelle note di questo episodio come verificare l'attivazione almeno un paio di modi puoi cliccare con il pulsante destro del mouse sul pulsante start e dal menu che si genera individua il pulsante sistema cliccandoci sopra e dalla finestra che si apre individua la zona in basso attivazione di windows oppure cliccando sul pulsante start con il tasto sinistro e poi successivamente su impostazioni nella pagina che si presenta individua aggiornamento e sicurezza una sezione e poi ancora dalla lista di pulsanti di sinistra sul pulsante attivazione questa è una schermata della prima condizione che come puoi notare ha una condizione di assenza di connessione e questa nel secondo caso dalla sezione aggiornamento e sicurezza clicca su attivazioni e poi da questa schermata dovrai cliccare su attiva in entrambi i casi però se il computer non è dotato di accesso ad internet il sistema risulterà non attivo e quindi dovrai connetterlo immediatamente alla rete per attivarlo dopo qualche manciata di secondi automaticamente windows 10 verrà attivato ed avrà acquisito il codice per l'utilizzo con diritto digitale della tua copia su quella data macchina e per quella specifica edizione home o professional che sia inoltre avrà in aggiunta la dicitura che windows è attivo con diritto digitale nel caso l'attivazione non avvenga in automatico clicca appunto sul pulsante attiva per eseguire l'azione manualmente per comprendersi è bene sapere che non tutti i product key di windows 7 o 8 o 8.1 possono essere impiegati per attivare windows 10 ad esempio le edizioni enterprise e i contratti multi licenza sono esclusi ricordo ancora che ad attivazione eseguita non sarà mai più necessario inserire il product key per attivare windows 10 sul tuo dispositivo anche se eseguirai un installazione pulita con formattazione del disco rigido se anche hai acquistato un dispositivo windows 7 o 8.1 preinstallato aggiornandolo a windows 10 non dovrà inserire alcun product key in quanto tra le codice tale product key è inserito nel firmware del dispositivo e verrà acquisito in automatico l'attivazione funziona sempre beh innanzitutto potrebbe non funzionare a primo tentativo come ad esempio nel caso in cui non riesci ad accedere ad internet o ai server della microsoft le cause possono anche essere diverse oltre a quelle appena definite potrebbero anche esserci problematiche hardware del tuo pc o software nel caso riprova isolando l'eventuale guasto o l'eventuale problematica se ciò dipende da te dal tuo pc legge anche la pagina del sito della microsoft per evidenziare gli errori che ti potrebbero notificare il sistema operativo o un'altra ancora dedicata ai motivi per cui non riuscissi ad attivare windows anche questi due link li troverai nelle note dell'episodio per quanto vale l'attivazione beh utopicamente diremo per sempre questo perché in realtà la licenza con diritto digitale è stata legata all'hardware e possiamo dire che quindi la licenza è valida fin tanto che durerà il tuo pc o il tuo dispositivo non solo in effetti nel caso in cui tu esegua modifiche sostanziali alla struttura hardware del tuo computer come sostituzione della scheda madre o del disco rigido windows 10 potrebbe non essere più attivato in questi casi se l'attivazione automatica non dovesse funzionare dovrai contattare l'assistenza clienti sperando di poterlo attivare bene good andiamo a verificare se il sistema operativo è attivato o se no attiviamolo manualmente vai sul pulsante start con il mouse clicca con il tasto destro individua sistema e nella schermata che si presenta noterai l'assenza di internet e un invito all'azione cliccando su attiva windows entrerai nella sezione dedicata dell'attivazione puoi cambiare il product key oppure cliccando sul pulsante attiva realizzare l'attivazione ma in questo caso con l'assenza della rete anche cliccando sopra non realizzerai appunto l'attivazione non appena fornirai la connessione ad internet il sistema reagirà a tale condizione il sistema operativo potrà contattare i server della microsoft e quindi cliccando sul pulsante attiva realizzerai l'attivazione del sistema operativo dopo qualche manciata di secondi ecco che il sistema operativo sarà stato attivato con acquisizione del codice con diritto digitale torniamo pure indietro alla sezione di sistema e come puoi vedere è confermata l'attivazione del sistema operativo giusto per completezza tornando alla sezione aggiornamento e sicurezza puoi verificare oltre all'attivazione anche l'inserimento di un nuovo product key e naturalmente cliccando sul pulsante relativo sempre che tu abbia una connessione ad internet inserendo nel campo relativo il codice product key potrai attivare il sistema operativo anche se non hai inserito il product key durante l'installazione e realizzarla anche successivamente all'installazione dopo l'inserimento del product key verrà acquisito all'interno del sistema operativo e nella schermata successiva cliccando su avanti avvierai la procedura di attivazione ma ricordo sempre che tu abbia accesso all'internet cosa che naturalmente in questa simulazione non avverrà per assenza di connessione bene nella prossima lezione vedrai come seguire un ritorno alla versione precedente di windows questo se non ti piacesse windows 10 e vorrei quindi tornare a windows 7 o 8.1 ora come sempre un forte saluto ciao a presto da gallo e alla prossima